3 a 0 per la New Team contro i Gina Lovers, la rete di Ernesto Di Tommaso, poi la rete di De Rosa triplicare per i Nero Verdi avanti di tre reti come detto dalla rimessa laterale va a Parisi, lungo in avanti, palla deviata da Toto De Rosa in fallo laterale i Gialli provano a reagire, riaprire il match prima della fine del tempo e Martino, palla che termina in fallo laterale per il tocco di Pafundi su un avversario stesso Pafundi colpisce Di Tommaso ma la palla arriva a De Rosa, c'è un fallo di mano involontario che però l'arbitro ha deciso di comunque fischiare sanzionare con una punizione per i Gialli, seguiamo questo calcio piazzato l'arbitro sistema i due uomini in barriera tutto pronto, palla che colpisce la barriera piena Tommaso prova a tenerla in campo, non ce la fa Poveri protegge la rimessa dal fondo che del giudice può battere lungo in avanti a cercare Parisi sulla destra, la mette giù poi De Rosa però lo ferma e sommella, sparacchia in fallo di fondo vediamo il rinvio, portiere, la gioca per Pafundi, poi De Rosa, vicino per Di Tommaso buono lo scambio ancora con De Rosa, l'azione palla a terra dei neroverdi la palla sulla sinistra, rimessa al centro, no non è così ancora il numero, la palla poi dietro scaricata per De Rosa che viene fermato da De Martino che guadagna anche la rimessa laterale per i Gialli seguiamo quest'ultimo contropiede dei Gina Lovers si perde un po' di tempo quindi De Martino deve allargare Pafundi intercetta, attenzione Pafundi può calciare con il destro la mette dentro, un rimpallo la difesa già la si salva però poi resta sempre lì Parisi allontana, vediamo se Sommela la trova non è così, 3-0 New Team, chiudiamo qui il nostro collegamento New Team vittoriosa per 7-1 contro i Gina Lovers grandissimo protagonista del match Ernesto Di Tommaso Ernesto quanti gol hai fatto oggi? oggi ho fatto quattro gol, addirittura poker per ti? si si si, sono felicissimo perché mi sto trovando bene con questa squadra poi vorrei dedicare questo gol alla mia fidanzata e perché indichi tutti i gol? ah perché anche noi insieme, ah state insieme, ho capito e vorrei dedicare anche un altro gol a Tony Laino che oggi non è venuto assente sempre innamorato sempre, sempre va bene, senti, ormai siamo agli sgoccioli di questa regular season secondo te dove possono votare? si è innamorato, si è innamorato, perciò c'è una cosa bella innamorato basta che ci crediamo e dobbiamo divertirci guarda, guarda, guarda ho detto basta crederci nelle cose, bisogna prendere comunque con divertimento qualunque cosa, basta bisogna giocare per divertirsi e non pensare sempre ad arrivare alto l'importante è giocare con gli amici e passare un bel pomeriggio insieme va benissimo, grazie, ciao ragazzi, ciao